Venti approcci, venti approcci, venti approcci. La parola non dire è la unità, siamo loro i pezzi, non è quello di tutti, ma non è quello di tutti. Abbiamo bisogno di recuperare il senso delle istituzioni, abbiamo bisogno di ritornare alla politica, la politica vera e ripartire soprattutto da chi è rimasto più indietro, ripartiremo la nostra. È andata molto bene, sono contento, questo è indicativo della fiducia alla mia tassona, al programma che avevamo, a quanto ci siamo detti. Sono davvero contento di poter eservire questa città. Aspiravo, no no, non è una divincita. Io spero che anche Alberto Di Girono possa rimanere in coltio comunale, io non porrò muri né pregiudizi, siamo sulla stessa barca ma stalla delle piattette. Dobbiamo rialzare tutti insieme. Cosa che te ha dato più facile in campagna elettorale? Nessun facile, capisco che quando non tengo argomenti si è giusta, ma non fare così. Buono, buono, buono. Buono, buono, buono. Buono, 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 buono. Buono, 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 buono. Buono, 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 buono. Buono, buono. Grazie a tutti. Grazie a tutti.